Dopo dieci anni restano il dolore e tanti interrogativi. Gli assassini di Leonardo Biagini non hanno ancora un nome. Il consigliere comunale di alleanza nazionale più suffragato in assoluto alle amministrative di pochi mesi prima fu ucciso a colpi di pistola nel suo circolo politico a Foggia in Viale di Vittorio la sera del 25 ottobre 2004. Per ricordarlo il sindaco Franco Landella ha consegnato una targa ai suoi familiari. In prima fila la compagna Enza e il nipote Marco, più defilata la sorella Anna. Una ricorrenza che ricade all'indomani dell'inquietante avvertimento rivolto all'assessore al bilancio Sergio Lombardi e al consigliere comunale Giuseppe Mainiero, destinatari di manifesti funebri affissi davanti al palazzo di città e le loro abitazioni. Anch'io nel passato sono stato attenzionato da una bomba carta, da un incendio della mia macchina sotto casa, che scuotono soprattutto i sentimenti e la stabilità soprattutto della famiglia. Una verità giudiziaria sull'omicidio Biagini non è stata raggiunta. Gli inquirenti focalizzarono l'attenzione su un elemento di primo piano della mafia foggiana assolto in via definitiva. Biagini si trovava nel circolo riva destra con alcune persone, tra le quali il pluri pregiudicato Antonio Catalano, ferito a sua volta nell'agguato, diventato nei mesi successivi collaboratore di giustizia. Le sue dichiarazioni non hanno permesso ai magistrati di accertare la verità. Inoltre non è mai stato chiarito con certezza chi fosse il vero obiettivo dell'agguato. Era il presidente di circoscrizione che alle 8 di mattina era già in strada per ascoltare i problemi quotidiani della gente, quindi questo è il suo principale insegnamento.